La filiera latero casearia è molto importante per il nostro paese ma anche per l'Emilia-Romagna. Dal punto di vista economico, metà della produzione di loro da vendibile è legata alla zootecnia, in particolar modo alla produzione dei formaggi di qualità come il parmigiano-doggiano. La filiera è importante anche a livello sociale, a livello ambientale, un grande patrimonio che dobbiamo sostenere, dobbiamo difendere, dobbiamo aiutare le nostre imprese. Innanzitutto in questa fase emergenziale di rincari energetici e dobbiamo aiutare le imprese ovviamente anche mettendo loro a disposizione i fondi pubblici, comunitari e nazionali per gli investimenti, per la ricerca, la conoscenza e l'innovazione ma anche per acquistare nuovi mercati e per l'orientare adeguatamente i prodotti.